audio musica non troppo e classiche d'asso allora vediamole come si fanno le cose intanto basi letto semplice no lancia di pietra no la plastica ho buttato fatto che papà che si è stato tu a fare quel rumore terribile non salire ammozzicato lo squalo ha fatto mozzicarsi lo squalo sceso prendere delle robe mi è caduto il coso adesso non riprendo qua c'è due di palma è erano quattro e allora un problema guarda è caduto a terra il gancio niente finita e c'erano con sinistro tiratelo con il tasto destro devo tirarlo prenditi la palma che è utile per il momento e deve fare una certa prevision ma lì c'è un'isola magari seriamoli atterriamo che stiamo volando ok perfetto ok ho creato un po più di piattaforma io quel barile ho preso e rompimi le palle erano capito asse foglia barbabietola asse corda e di limitolo che prendi però per dirti cosa c'era in quel barile e vede prendere la plastica se ci riesci e se c'è anzi se me la sporti che la prendo io così non ci credo l'ho presa anche io ma nessuno con la pasta che durissima squadra cosa vuoi così crea altre piattaforma un pari le mani le pari le levi prendere le cose vicine hai ragione me lo scordo sai mi piace molto tirare col gancio bottiglia presa queste davanti io direi di non prendiamo le colla e dai ok creato altre cose cosa mi serve per costruire mi serve altra plastica altro legno quel legno per esempio lo prendo ma l'ho preso quel legno quello me lo prendo questo ci faccio le corde quel barile lì quello ci sta mozzicando la cosa qua che cosa vuole qual faccio a salire qual faccio a salire ok mi scherzato squalo non so come puntellarlo io non abbiamo la spia ma non abbiamo la spina possiamo scendere quindi non so perchè la azota è trasferata quindi li siamo ingastrati effettivamente però appunto è proprio questo abbiamo la spia Io non so come si fa Perché non c'è C'è l'ascia di pietra Sono delle foglie Sono delle foglie Io ne ho 15 se vuoi Non so come passartele però Ad un attimo a esplorare Tu resta lì Dimmi se la barca inizia a muoversi Preso del fiore Altro fiore Ho captato la puntella Ok Ma sei? La barca mi sono mosso dalla barca No Si è mosso la barca però non la vedevo più Mi sa che mi sono perso No non si è mosso di un millimetro Questo è Mango però Mango io Ma Scusami Uff Fa battere quest'albero Se c'ho Ho trovato un kiwi E che non è un kiwi È un Porca Trovi Quanto cosa ho trovato Ah rotami Anche io L'ho trovato In questo preciso momento Non c'è arriva là sotto Guarda che lì Fa un coso importante Guarda come ci appizza la vita Ok Lasci un piede La pietra E faccio la pietra Scusami Forse devo farmi la piccozza Prima Lo squalo Ho visto arrivare proprio Come hai fatta la spear Nel tab Nelle armi Lancia in legno Ah eccola qua Le armi Lancia in legno Effettivamente Un melone Melone Ho trovato i meloni No Arriverà al gancio No Vorrei sapere come faccio A prendere la pietra Hai un'idea Cosa ci posso prendere E mi dice Per craftarmi La Lascia in pietra Devo Prendere la pietra Tre di pietra Mi serve Pesante Ma tu Non lo possiamo fare Allora Faccio anche una spear Fammi Prendere del legno Però Che non ne ho Eh Una caverna sotto Ma no Si entra Nella Si entra Nella Dove Eh In sottacco Ma tu sai C'è lo su quello Che è bazzica Lo so Che c'è lo sullo Che bazzica Sempre sullo Che bazzica Ah ci morde la barca No vai via Che non ce l'ho La spear ancora Poi io Non si può raccogliere No no Che fai Scherzi L'altra parte è l'isola Visto E la corrente Di questa direzione Arriveranno Al cose No Sembra che sia Abbastanza stabile Il foglio Ma il foglio Ma non mi interessa Si interesserebbe Di più Ecco appunto Le assi di legno Ne servono otto Per creare la spear Oh stardo Vai via Vai via Vai via Hai detto Disgraziato Non so come facciamo A scagliarci Perché io Quello che c'era Nell'isola L'ho presa Per vedere La pagoda Eccola qua La pagaglia La pagaglia La faccio io La pagaglia O la tua Io ce la faccio Posso farlo Mi servono 6 di plastica E ne ho 5 Eh io ne ho 1 Come faccio Tieni Mi servono anche le foglie Ce l'hai Quanto te ne servono? Non lo so Non so quanto Ah ti servono le corde Le corde ne ho 2 Tieni qua Le corde La pagaglia Sì Sì E' meglio Eh già E' meglio Che culo comunque Io c'ho un botto di roba Da mangiare Per esempio C'ho i semi di melo Di anguria C'ho un ananas C'ho i semi di ananas C'ho le cose buonine Ah qua devo ripararlo però Qua faccio ripararlo Ti si rompe Non puoi ripararlo Eh si posso ripararlo Mi serve soltanto 2 di plastica Ah ma dici il coso sotto di noi Eh si Petro è piccolo Ma se volessi tipo il depuratore Ah si foglia di palma e plastica Ah va 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 Ho sentito attaccarlo Vero a massimo Hai chiedo nuotare No Troppo presto Mi serve Che la plastica Grazie Una Ma vai verso di lì Riesci a nuotare Verso di lì Lo sto guardando Lo sto guardando C'è una barca Ma per quanto è che non riesco a prendere Samu Aspetta aspetta Ma che c'è Lì lì c'è una barca È un'altra azata E ci sarà qualcosa di interessante Scusa Ce l'ho lanciato in testa Ma non dura così tanto la cosa eh Ma sto morendo di sette io Eh volevo fare il depuratore semplice Ma volevo andare su quell'isola lì Eh come si fa il depuratore semplice Vediamo Serve soltanto altre due di plastica a me So Scusami un attimo Poi do prendere l'acqua però Il contenitore piccolo Con la tazza vuota Non ho plastica Eh Erca buttana Sembra più lontana è stata Lo si può andare a tirarti ci sopra Sì Banzai Scusami un attimo Ah Stato finto Ah sta plastica Tracer Unificato Ah ah Non riesco ad arrivare verso di te Vieni vieni Che arrivo Ah Molto lentamente E non riesco a scattare perché ho finito l'acqua Anch'io ho finito l'acqua Aspetta L'idea se il melone Qua si mangia il melone Lo rimano Eh mangialo Mi sta restituendo un po' d'acqua il melone Ne mangio un altro Lo vuoi anche tu il melone Tieni il melone Ah Vai via Vai via Ma male che ho trovato il melone C'è della plastica però per fare C'è della plastica? No? Sto raccogliendo ora ora Una adesso Con tutto quello che ho raccolto Non ho trovato mezza Possibile Come faccio i retini? Come faccio? I retini Aspetta che li devo mettere davanti Ah non so come si Questo è plastica Questo è plastica Ti me ne serve Per fare la tazza Quattro Guarda l'uoto allora Che Vai Ovigio Aia va A posto Va disponibile per la ricerca Antenna Come sei messo a plastica? È andata? Ho tre Eh tienigli un'altra Così fai l'acqua Le cose per l'acqua Ah no L'hai presa un'altra La riprendi Tu dici la tazza devo fare Sì sì Per mettergli l'acqua Faccio Presa cazzo Fai a me Per farmela però anche io La tazza ora posso farmela Ok Tieni questa Tieni questa plastica Che sono pieno Mi sono convinto che c'è l'inventario Non dovevo bere Quella Ecco Non è che è un po' magnetico Che hai fatto ad accendere il fuoco Scusami Devi mettere sotto le assi Eh Sto morendo di fame Ti muovi Mi muovi che Non so La acqua è pronta Prendi l'acqua intanto Prendo quella intanto No Un pacchetto Sono pieno Cos'è questa roba Aiuto Corri 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 Sai che ho bevuto io Ti ho messo a fare l'altra acqua C'era semplicemente L'altra L'altra acqua pronta Per questo Non Salve Qua sotto Qua scottina E voglio attaccare Foglie, 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 foglie Quante Vabbè Ma tu non stai morendo di fame Sì Ti posso dare una patata Tieni qua C'è una patata Vorrei fare una pianta Giove Mi stavo attaccando Lo sento Bene La metterò Non lì che si sta per rompere Magari Ecco fatto La cabella Ti piace? Come faccio a mettergli l'acqua salata? Non ho ancora capito Prendi la tazzina Premi Premi e Sul mare Ah ok 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 Ho visto Vistora Perché Ti andi l'altra patata qua Sì A posto Poi devi dargli l'acqua Non sarà Sì sì Allora No Hai rotto alla fine Sei un pezzo di cazzo E noi lo ricream Puoi riparare questo? Marinaio È in una abbastanza plastica Allargarla E così Eh signor capitano Mi pagaglia meglio Verso l'isola Così ci incastriamo Ma si sta rompendo Il pagaglio Però Questa riesco a ripararla Questa riesco a ripararla Sto muorendo di fame Che cosa trovi nell'isola? Sono lento infatti Anche io sto muorendo di fame Aspetta ma io ti posso dare un ananas C'ho i semi Cosa mai C'è qua l'ananas Dove stai? E' bene Hai mangiato già tu? Eh no Qua c'è un altro ananas Me lo mangio Ma sbaglio non ha dato un ananas No no Il cappiano Il cappiano Eh ma non Caccelo vedi Ho mangiato il seme No ancora no Subito Che ha preso l'acqua L'acqua Nessuna Ha preso nessuna Io l'ho messa E' pronta l'acqua Scusa E' pronta quella dolce Rimuovi il liquido E la versiamo Ok Mi sa che mi riempiono solo l'inventario Prendo questo Scusa Non posso prenderlo Non vedo tutti i frutti Scusa Non posso prendere i frutti Cosa che ti dicevo Io vado a romperlo Per provare a prenderlo Davvero con questo Funziona Che sarà mango Debbiamo capire Come si prende La La pietra Questa cosa Questa cosa l'ho persa Dei vari gameplay Che ho visto Prenderla a pietra Io sto rimanendo di qua Ho visto che prendevano i materiali Da Dalle rocce Atta qua E' la pietra Ok mi sa di si Ok ci trovo sul fondo del mare adesso Cioè vicino alle isole Ok fatti una accetta Magari No scuolo Vai verso di là Tutto in fondo al mar Ci trovo Mi serve un asse di legno E basta C'è un asse di legno No 5 Ok C'è un asse di legno Ho una accetta Ma molto lento però Ok che potevo creare Anche una griglia semplice Magari ci mettiamo a pescare E' una brutta idea No gabbiano 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 Eh domani ci arrivi No no ci sono solo qui Per fortuna Ok c***o una non è assolutamente mangiare Ah almeno posto No deve superare il limite Dai supera il limite Così posso saltare di da Per il limite Per il limite Non ha superato Ora l'ho superato E salta Minchiaone Ok Ma niente Sono quasi qua Seme di mango Hai trovato un mango Perché io sto morendo di fame Sì ho un mango Guarda anche non c'è di cocco Può mangiare non c'è di cocco Posso mangiare Ah sicuramente si Allora Con il mango Grazie Diciamo che Non mi riempie Abbastanza Però Vedi niente Squalo Ti ando a fare O poi arriva Arrivi tu Che fai Sei fortissimo Squalo Fatto io ho scoperto come si fa Guarda Tengo premuto questo Seleziono e faccio Rinforzo per No No Ripara Asse Non ho assi Anche il tempo Basta Suono di merda Basta Lo ti voglio Fatti cazzo Tuo Ho prendo le mie rocce Sono morto Allora veniva a prendere Che sono morto Non va a prenderti Che sei morto Sono a sinistra In basso Sott'acqua Di La zatter Ecco vai Ouch Beh Appena poi Fai un letto Ma porca E ce l'è tu La bagaia La bagaia C'ho io Ecco E cosa serve per un letto Scusa Cosa serve per un letto E mi servono le assi E i chiodi Non posso farlo Mai nella vita Allora mi arrendo E mi rigenero Sì Non so Non c'è Ah mi leva tutto Perfetto Arriviamo Raccogli Raccogli Non mi lasciare anche Uno zainetto Niente Per tutto e basta Anche il gancio Ho perso Anche il gancio ho perso Un'acqua dolce Un'asse e due di plastica E andiamo Tanto mangio La patata E la barba pietola Così c'è un po' di Di sale Che palle Quello di merda L'ho presa Non c'è nessuno ancora Che ti senti Ma cosa vuoi da me Trovi Una cosa Bella E così Intense Mende Angela Amiso Spositi Con me Porco Il giuto Di nozze Lo facciamo A los angeles E sono di nuovo Non c'è La spingono La carrozzella Angela Due pesci Un uovo E del latte Facciamo una cosa Vuole prendere Due pesci Vuole creare E quanti essi hai? Cinque Me ne dai Un po' Così creiamo La canna La pesca E la corda Non dovrebbe essere Un po' No Ce l'avevi tu Tutto il mio fogliame No Ce l'ho ancora io Perfetto Oh che paura La corda La corda Una Due Ma che stai Non c'avevo voglio La zica La zica Avevo voglio Che sta attaccando In questo momento E' stata attaccando Il coso dell'acqua Ok La mia fortuna No Ma se riavviamo Il server Non cominciare No Andata male Basta Non lo cominciare E ma Così Non ce n'è Non ce n'è Non ce n'è Riusciamo a sopravvivere Siamo incassati qua Mi manca Due di corda C'hai C'hai erba C'è nel senso Sto facendo la pagaia Non posso dartela Ma no Se riavvo a sopravvivere Cazzo Che sto muovendo di fame E ce n'è ancora Due di corda Io se ne vuoi Ah e dammi Un limonese Sì Non lo usate Ecco Me ne manca uno Di corda Allora che tutto Siamo Che cazzo è servito Allora Che vi serve Uno di corda E poi posso fare Mi accanto La pesca Per pescare i pesci Magari ce li mangiamo Con Cazzo la griglia Io non so Come si fa La griglia Griglia Semplice Oh lo posso fare Eh servono altre Tre di corda Vabbè Sto morendo di fema Non vedo neanche foglie Delle distanze Non è che dici E ti ho detto Siamo morti qua Che palle però Che lontananza la vedo Tutte assi sono Tutte Non credo Sembrano tutte assi Ma so Vediamo che serve Per davvero Allora Sì Allora Sì 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 ok tra pochissimo ecco ci siamo aia figli e buttana serie allora la prima cosa che vi faccio è il purificatore d'acqua dopodiché è il cosa per il cibo per il momento vogliamo allora serve ancora plastica ancora assi no non ho preso per pochissimo ma che sto prendendo tu? no no ma che cacchio sono caduto aia non ho preso il via si vuol? serve ancora plastica? che paura mi fa ogni volta se abbastanza plastica ed assi fatti il purificatore ma io faccio la griglia non direi ancora però vai prenderlo ma era lì ma era lì cancio o culo la prospettiva ma posso farlo proprio per un po l'isola prima se su quattro blocchi non mi pare il caso che attacca ce lo sfascia subito ed è crea il martello per quello tante assi anche plastica la spengo io la carrozza all'angela ma era lì come ha fatto l'ho proprio preso ecco ok ho una barbabietola da fuccaro cade anche barbabietola semplice mi sono come spostiti con me che viaggio di nozze io ti porto a los angela vai che prendo anche l'asse non l'ho preso ho preso tutti i barili perché io che non l'ho presa quella scusatemi sei partito con un esco eh niente quello è perso via via c'è che è tutto il martello in teoria potresti già crearle l'ho messo e due però volevo aspettare dove? vedi che ne sono quattro le avevo messe di qua quelle che hanno rotto lo squale e quelle accanto no quelle che mi servono e anche quella plastica mi serve grazie quello credo che dalla spiaggia riusciamo a prenderle ma ci rendiamo sempre in un'isola 8 ore dietro è un po' fatto a posto all'inizio io qui ho preso il melone che ci ha salvato per un po' il culo qua c'è il mango dai per quant'è che non c'è con le melone un po' come volevo anche adesso ma quella foglia ma veramente minchia da prenderla io solo tico io porca troia vieni qua e vai a cagare fuori di merda da te allora e perché sono detto arma neck 5 di plastica 19 di foglie 14 di questo è il mavola 14 di assi ho 20 20 di assi e di foglie 12 di di plastica però devo scagliarci qua anzi prima fammi cercare no 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 io vorrei cercare perché qua c'è del bel mango quindi fammi cercare un po' di come si chiamano roccine c'è lo squalo che rompe le palle maia solo sto a fare una cosa lo so le rocce si vedevano a vista d'occhio proprio posso vedere un'altra cosa ne è guardi una roccia fino a che aia bastardo no era sabbia vaffa frega arcilla a cazzo sto morendo fortissimo canterò ciò come zero argilla a perché non ho spazio vabbè chi è ma non mi serve l'agilla a me ho scampato alla morte ce le trovate le le trovate le rocce no solo sabbia c'è qua intorno in quest'isola non c'è le rocce vabbè la basta sta mozzicando non mozzicare la rete io sono già qua quindi faccio il pulito a porca troia faccio il pulito di merda faccio poco cresciuto faccio il pulito cadere dall'acqua prima eh si forse posso farlo con che l'ho fatto mi dice che grabare qualcosa qui che non ho paura metterlo perché l'asse in cui è secondo me è meglio senza sale ora mi mancano 3 di plastica per far la tazzina non mozzicare fastidioso mi manca la plastica per far tutto guarda che zattera di merda che ci abbiamo arrivo ce l'ho la plastica ne ho 12 vediamo se riesco eh cane ma che cazzo e se riesco a farti la spia magari lo caccio si posso farmi la spia tanto ho fatto la tazzina che è quello che ci sia mettiamola qua poi dopo vorrei fare fare questo io vorrei fare invece non posso farlo qua era apparso verde per una zuca a posto aspetta aspetta un attimo tieni questa la foglia che vorrei creare lo vorrei poi aggiungerne 3 di qua così è in mezzo dei safe il purificatore dell'acqua 1 sto finendo la plastica 2 non posso farlo perché siamo adassi so devo creare ancora un po' di corde oltre 2 ok sì mi creo canna da fresca perfetto esca per squali ma non ci penso e poi che voglio creare il ah mi mancano 4 di corda cavolo non posso crearlo me la faccio di corda ma ha finito di fare l'acqua beh visto che io mi mangio un melone casomai posso allora dovremmo scastrarci eh la pagaia dove hai trovato la pagaia qui c'è la vela oh cacchio la plastica tu ce l'hai? me ne manca una ce ne manca una vediamo se ce ne ho io in più ho 5 su 6 no e l'altra parte è lì solo aspetta che te vado a prenderne una poi io me la faccio due assi le assi ce l'ho io vabbè quello lo dovrei aver tu devo fare una corsa adesso quello bottigli impire la tazza di acqua dolce e bevo quindi anche delle foglie che sono molto utili un'asse un'altra foglia un'altra foglia ancora allora ti si arriva detto la plastica uno di plastica letteralmente uno di plastica perché era il più vicino non volevo io ho 8 adesso però mi manco solo due assi tieni qua assi questo tempo io mi vado a fare scastro eh vado sì sì mi mangio questo anguria ne è fatta con inizio a pescare aspetta la moglie ma ne avrò più là tira tira che si pesca in sto gioco aspetta direttamente che arriva il pesce ma forse è quello il pesce o è soltanto una stella mi sa che è una stella la posso ah ho trovato lo sgombro ho catturato se mi fai una griglia prendi le cose prendi le cose qui quello tovolo e vabbè l'angolo è perso no ho mangiato lo sgombro metti il 5 deficiente coglione ah non l'hai salvata stavo dicendo no quello è un barile però porco il cazzo niente finito per sempre magari verso lì vado io vado io aspetta vado io tanto se muoio non ho niente di importante c'è della plastica utilizza un progetto ricevente vieni qui pronta a cavallo non so se riesci a crearmi no cacchio adesso passamolo un attimo e va bene sono pieno di merda io tu ce l'hai la plastica? io ho due a spazio per essa? io ho due quindi si tieni qua ah ma allora è decoccia il mio personaggio oh fame se vuoi ti posso dare un'anguria? no hai un'ananas faccio una patata guardate volete nemmela per fare il calcio appunto tieni tieni prendi il pacchetto sotto di te no sta andando sta andando via sta andando via da lì posso venire così? ma se mi tuffo sta andando solo mi scordo che io non posso grabare niente sicuramente sono full molto lento perché non ho vinto nooo porco cos'è che hai fatto adesso? guarda lì i pacchettini vaffanculo ho preso un barile perché prendi le cose e sei pieno? è che dovrei svuotarmi per esempio questa sabbia lì non lo voglio no ti ho detto che non lo voglio eh sto senza acqua però qua c'è qua tieni la tazza no 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 c'ho il melone c'ho il melone c'è niente c'è un pacchettino questa è plastica questa barbabietola è grado come si crea una griglia quello in realtà volevo anche ampia l'isola direi verità ma te la creo io la griglia la griglia non ci vuole niente tre di corda uno due e tre già fatta praticamente ah dobbiamo vedere che storia metti l'asse metti il pesce non è questo avrei l'altro sgombro che devo aspettare il mare in tempesta ci vuole tacci qua a destra c'è un c'è un barile ma col mare in tempesta è lo difficile di piare che va lì tu li va lì quante assi roberto piaggio maradona nudo oh ti pare il caso vabbè ok ok ti creo aspetta e ti cucino anche a te il pesce guarda che bello sgombro che ti sto cucinando stavo mangiando io mi ha rifullato un po' la fame ma non tantissimo un barile preso come si ripara esattamente non l'ho capito sai ok l'ho fatto riparato che l'ho fatto vado a prendere il tuo nuovo che c'è proprio che puoi farlo eh sono pieno ti ricordo eh guarda le tue palle se vuoi no no lascialo perdere vado là vedi se riesci a fare le cose quelle più particolari lì quante sono le cose più particolari è quelle che raccoglievano automatico tieni a plastica c'è il merluzzo che è cotto se vuoi mangiare se hai problemi di fame quanto ti ho dato? quasi metà bar perfetto uh culipari non c'era mi sa che dobbiamo ricercarli cosa? ah no che cazzo dobbiamo ricercarli dammi il martello pezzo di merda basta fare co ma perché io ho un progetto per una cosa per l'antenna non ti faccio dire ero convintissimo rinforzo perfondamente no niente non ti faccio dire e si sta rompendo l'amo e che cazzo per il primo è il tavolo da ricerca per farlo oh siamo al pagaglia che ci abbiamo ritrovato l'isola stavolta siamo messi meglio 50 50 siamo a parte di una boy band ricostriamo? no questo fa barile di merda vieni qua mi è scappato oh oh non ci incastriamo paolo ma battene un affanculo non ci incastriamo non ci incastriamo non ci incastriamo andare contro corrente è dura mi so che conviene non ci siamo affanculo ma si 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 vattene una pia nel culo cavolo qua ah e me la dai la cosa sto malendo i 7 non ho plastica abbastanza per thank you ma è più ce n'è acqua è pronta qua vedi che c'è la cosa con la rosa piena ah non parca troia scolo cosa vuoi fare? no e te culibali e messo a fare altra si o se ah 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 non penso ma cosa è questo cazzo hai idea parlare italiano per poter decidere i i i don't know what is this i don't know potisito è giusto ah perché quella è persona invece questa è cosa ho rotto ho rotto ho rotto il coso aiuto ho rotto il coso dovevo ricreare forse i casi che hai rotto no no il il è quello potenziale ce l'abbiamo così mi sa che non ce l'abbiamo lo vorrei non anche aspetta che arriva culibali tieni qua le scenate che fa quando aspetta del pesce sono fotto ci pare l'ho fatto apposta la l'ho messa si l'ho messo si mettiamo gli un vedi se puoi fare il terriccio io posso fare il terriccio devo fare prima il collo cosa non l'ho fatto non lo fare prima mi viene in mente guarda quanta plastica c'è sto pescando vado a prendere a nuoto a quella che non mi blocchassi il passato ho pescato ho pescato un salmone un salmone un salmone un salmone è un sito ha pescato se muoio salutami così ciao ma sei qua dai che ce la fai dai che ce la fai grande caccia ho proprio un attacchetto pianto le patate ho pianto tu una patata qui non ci sta il salmone devo mettere a fare uno sgombro comunque io sto morendo d'acqua di fame non più riparate per il 100-100 mi sa che devo posso navigare l'attivo lì signor allora c'è una zattera alla sinistra ma a destra c'è una terra non so di dove c'è terra lì e c'è anche un barile là a destra vediamo se riesco a prendertelo con i balì con i balì trovato della pietra una pietra anche io ne ho una eh quante ne serviva per l'ascia pochissime allora tieni qua magari uno tre e serviva in tre eh ne manca una culibali culibali eh ma a me manca un po' un cazzo perché si rompe la canna da pesca quindi mi sa che non so come riusciremo a crearne altre non vuoi andare quindi in quell'isola lì non ci arrivo con la pagaia ah ok allora lasciamo assare abbiamo ci provare non so tilapia cruda attraverso una tilapia questa questa bella cicciotta la tilapia e non si può cucinare stai morendo di fame per caso no stai morendo di fame ok allora me la mangio questa la ho messo a cucinare ah mi si è rotto anche mai il cazzo dovremmo creare il tavolo degli incantesi mia ah sta morendo d'acqua e qua è pronta me la dai no la tilapia c'entra comunque si ma se non ce l'abbiamo abbastanza platine adesso devo farci un'altra facciano un'altra non lo so devo vedere io ne ho 8 di plastica quindi allora tieni quanto ne serviva? pochissimo non lo so eh 4 si posso crearmelo grazie ah però mi serviva anche ora mi serviva anche tu che mi devo ricreare la cosa per pescare che servono 8 di corda non so quanto azzicco azzicco di foglia ne ho un botto tranquillo che è che è queste assi poi non so se hai corda tipo direttamente corda corda no poi c'è un botto di fogli eh il massimo se non mi sbaglio è 20 eh si lo so eh qua c'è l'altro tazzo comunque se vuoi ora vi per queste io faccio così guarda più come cacchio si fanno i eh secondo me serve il coso sarà proprio un upgrade cacchio dov'è non sto azziccando la barca vero ho provato ad attaccare me oh c'è un barile lì cavolo ho 12 di plastica io mi sa che ne ero se bellissimo bellissimo se giriamo un po' più verso di qua riesco a prendere anche l'altro sai ah cacchio sono caduto ah mi sei passato sopra salut è più di buta ora io lo metto davanti e aspetto che arriva da solo l'altro vedo se posso crearmi quante corde voleva sto stronzetto qui 8 ah cacchio ok cacchio no ah perché non si è staccato questo l'hai preso si dai prendi l'asse io metterei a fare altra acqua aspettate ah no non posso se non no è già piena quella rosa ah ok pensavo rimanesse sul fuoco ho fame non c'è la tilapia c'è la tilapia è cruda non c'è cotta perché gli hai messo le assi scusa scusa pensavo che c'erano già di base ma l'abbiamo annaffiato queste io sicuramente no allora fammi creare di nuovo dov'era negli strumenti un'altra che andava fresca sta se me la prendo me la ciulo un barilotto un barilotto di stronzo metto qua al centro così se troppo infatti c'è una patata cruda è pronto qua la tilapia ah si dammi puttacazza molto meglio eh prenditi questi sacchettoni i sacchettoni per il vomito qui i sacchettoni per il vomito ah eh che sono pieno almeno li droppa nella barca mo ehi che vuoi fare vuoi attaccare la nave stronzetto ci sono delle isole gemelle che mi ricordano non so perché tantissimo quelle di come si chiama quel gioco dei marinai sea of thieves sea of thieves e mi prendo l'acqua che sto morendo di sete si si ci sono anche abbastanza assi ne ho 14 volendo anche ne ho qui quindi ora metto a pescare così almeno sai che ti dico allora se non so non so nascosto il giro giro tondo no prendila prendila sotto qui sta arrivando da qui qui è un pacchettino eccolo dove l'ho perso lì lì dietro cos'era bottiglia con candela ci facciamo un po' di luce mamma mia quello squalo hai sete? un po' come l'accendo scusa fatto che si c'ho sete ma ah cacchio eeeh lo so per annaffiare qua e non so belle idee bravo ufù 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 dietro di te ufù 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 squalo cosa vuoi fare picchiano ah 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 non ce l'ho fatta in tempo stavo ammirando questo fammi graffare la stica ufù 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 si confermo oppure una crafting qualcosa c'è un qualcosa per mettere qualcosa dentro festa si come mi capisci bene cosa che fanno blink su steam che mi son mangiato una cosa che mi ha dato cose tanta roba del cibo capire come cazzo i retini che l'ho convinto fosse una cosa facile fare i retini e invece prendi lo prendi lo prendi lo prendi lo prendi lo cazzo picchiere l'ho preso l'ho preso è ci stroppo le cose no no tutto che cose che avevo per fortuna e ti devo dire una cosa c'ho tante scrubs ma come si fa il tavolo da lavoro di ricerca fatto ecco si fa mettito centrale anche ah no vabbè è abbastanza larga adesso mettilo tipo qua va dietro lo vorrei mettere un po' così ok è abbastanza larga è abbastanza larga che dicevo di sporto però va bene eh sentito adesso posso fare così ricerca quello 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 è stata cerca lo l'ho preso ci ha fatto sfuggire un barile a corda il barile arco vabbè ce n'hai altri davanti a te però nei altri due cosa devo fare cosa posso fare altri e è fatto che ho fatto imparare un po di cose in teoria già sulla destra le pie mancano io ho messo le pietre però fai delle pietre metti non ho pietre allora niente ho già ricercato tutte queste cose ah posso apprenderle letteralmente apprendi pensa che vado a si solo per craftarle ah serve solo per apprenderle vediamo se cosa posso fare di bello invece il retino è sicuramente ho fame non hai messo a cosci niente eh non stavo pescando mi sono distratto un attimo se vuoi ti do una barbabietola dammi la barbabietola ma sono cresciute le patate non sono cresciute non posso prendere tutto un attimo fammi pescare questo pesce magari ti salvo la vita colpe prendilo era uno sgombro la 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 l'ho preso l'ho preso a me mannaggia al cuore e a sto pesce di merda ma troppalo qua in mezzo il pesce ma non lo posso non scompare dal punto che ne so io tu troppo lo andi no non lo voglio droppare non sono sicuro che se ne vada quindi non lo droppo sto morendo di femma eh ma c'è una barbabietola per il momento per tamponare voi siete vambi bene fammi pescare ma perchè cosa ho fatto ho preso la patata è pronta mettila a cuocere poi a cuocere dove? qui nel grill? dice che va bene è lì che devi cuocere le cose se no ci sta una patata pesce è pronta senti io ho un asse non ce l'ho più dove è andata? ti buttato terra? eh l'ho messa l'ho messa no non l'ho messa e tipo ah zico 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 ah vangolo basta vai via riparo ho riparato non devo trovare il mondo già con modalità un po' giusto ha dovuto a posto la pratica di un bevo pesa pesa però puoi mettere un asse? per favore sotto ah cazzo eh c'è un'altra ma là c'era un barile eh vabbè è troppo tardi uh riesci a pagagliare su quell'isola? aspetta le isole sono secondarie questo barile ma la patata cotta non da un cazzo se vuoi una patata cotta ah così in minecraft è l'altra un botto no no in minecraft da un botto fa poco saturazione è una delle cose che dà di più insieme alla carne di porco e in tutte le carni per la saturazione fa cacare la patata per la saturazione sappiamo cos'è meglio la carota d'oro lì ci sono due barili posso fare una cosa tipo così li prendiamo con le mani ma che bello oh placo tutto placo slatan ibravimovic eh 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 guardate i brai i brai i brai vabbè quello che è ho preso bene se lo prendo aaaah ma perchè prendi tu guardaci c'è la pietra c'è c'è pietra accendiamo in quell'isola spacchiamo gli alberi o c'è forse dimmi quando ci possiamo incastrare che smetto a voi a voi vai 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 per un po' la pagai eh ok vai 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 vabbè basta basta ci dobbiamo incastrare l'amo qui vai lascia e distruggi un paio di cose che io sto qui a pescare c'è un seme di palma facciamo l'olio ma è tossico cioè è tossico e è brutto non si usa più perchè ci sono e le cose registrate dove le trovo ah son cose secondarie va va via gabbiano devo mangiare quindi tanta bella robbia devo anche bere quindi prendo l'acqua me la bevo e ti metto l'acqua traffare la vita ce l'ho più dove stavano via no devo metterlo a seconda e acqua salata o due eccolo qua il retino serve un chiodo una bevuta sono un coglione ma è una cesta scusami inventario no 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 a cazzo la tua come si fa un as ah eccola contenitore e io ce l'ho da fare ce l'ho un cardine in teoria stai muovendo di fame che ti pesco no no nessuno ha messo le assi qua sotto ah e non ne ho ah l'ho fatto io è un'altra se me la metti qua hai racconto tutto di quell'isola? un cazzo no eh se non si ce ne andavamo ma ce ne manca cardine io ce l'ho i cardini e non scivolare non è vero che scivoli te rampichi due piastre di metallo eh ma io ce l'ho qui il cardine no ma via ma via ma via ma via e ce l'ha distrutta metoli ma perchè non si arrampica? vedo che c'è veramente un basta della oh raccogli cassa porco troio ricetta composta di frutta ho trovato della peggior roba ho trovato ma quel bastardo di scuola lo ammazzo eh c'è distrutto un pezzo di nave io volevo andare a vedere se tu vieni cosa vai nella nave io posso andare a vedere se c'è un altro cardine perchè la la cassa la possiamo fare ma ci serve un altro cardine perchè c'ho la corda c'ho tutte cose mi manca un cardine poi chiudo che vorresti controllare è sotto in acqua quando vai ci sono le cose di metallo anzi fallo tu ci sono cose di metallo puoi scavarle con l'artiglio e a culo ti danno o piastre in acciaio o cose in cardine e altre cose rottami per esempio io c'ho una un vetro per esempio ho trovato e del cardine ecco per esempio la c'è del metallo vediamo se trovo da quello lì del metallo per glass e ripar rottami ho trovato dei rottami aia lo scuola di merda sono volte ti sei fatto tu il cosa crudo? cosa? c'era un cosa crudo che ho messo a cuocere ah se era a cuocere si ah ok basta sapere era per terra no ah maronne dove è andato? sono pieno di assi porca troia scuolo merda tieni qua che c'è un pacchettino lì ho 50 assi una ringa da niente però è buona la ringa a me piace la ringa soprattutto quella di chiusura ah 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 la frega di mamma e terra con le patate ora con cazzo con cardine da qui eh scuolo fai basta eh rottami ah il pacchetto che ha rumore rottami no mi sa che danno solo rottami allora non so dove l'ho trovato quei cardini e i chiodi per dire ma io ce l'ho un bolt ho anche del del tralcio appiccicoso e cosa puoi fare col bolt e il tralcio appiccicoso? ma prendi ma prendi ehi cosa più forte l'arco laccetta fica cabbino di merda ok eh giustamente mi serve un bolt ho imparato a fare col bolt e il bolt non lo ce l'ho l'ho mangiato eh pochetto mi rotti il cazzo oh ok apprendi ora so come si fa la cassa e si fa ma c'è più quello da fare semplice ma vaffanculo basta una corda è fuori duro grazie ma che fai vai farlo fammelo fare eh te la metto un po' qui in mezzo alle palle cosa ci metti dentro? che ha un contenitore più piccolo come è eh sì ma per l'altro servono cose incredibili ma se lo tolgo dici che lo posso spostare la papera qua mi serve una rotta di corda e un cardine che ho dovuto usare per ah mi ha messo queste cose non posso vedere più niente già ho posto eh ne posso fare creare un altro se vuoi sto morendo di sete e qua c'è il a fare l'acqua ah la scala la scala la scala la scala e possiamo scagliarci già se vuoi scusa riparato cazzo sto morendo di sete eh ci dà l'ho messo a cuocere eppene arriva la faccia eh quanto stai facendo bordello per un po' è caduto mamma mia subito vado subito a cagarci il cazzo eh ci stiamo muovendo non ho capito mi si è rotta è perché ci sono le onde forse ci si stiamo addirittente il mare stesso cosa c'è ma niente vi vediamo mi serve un'altra corda e posso fare la canna da pesca quella vera avevano otto corde ne posso fare cinque ne ho cinque due della corda te ne posso fare quanta cacchia ne vuoi tu no volevo scastrarmi intanto da quest'isola devo fare una pagaia devo fare una pagaia ma io ho già fatto fare il giro dell'isola su no lo so è pronto il pesce che c'è il fan ok anche io allora tieni qua vabbè posso resistere ancora mangio mangio ehm metti un asse c'è da un botto sto di mare mi sta venendo eh veramente ci sto sto pescando in spiaggia sto pescando dentro la spiaggia che trovo dentro la spiaggia tanto te trovo uno sgombro ci spinge ancora di là magari magari ce ne andiamo eh c'è la ringa eh prendi sti la ringa così metto a fare lo sgombro hai sete così togliamo quest'acqua quando rimettiamo l'asqua sì assolutamente oh vai dai mi è uscito quella parte dai manca poco manca poco sì mi sa che siamo scastrati ormai sì sì ci stiamo andando vuoi andare di là guarda quanti ce n'è ma sto squadro ci segue sempre ma che palle io lo posso cosa fa puntella ok sì comunque sì allora ti ho risposto se mi fai altre tre corde mi andrebbero più che bene tieni ah perfetto grazie sono dei barili stai a occhio che mi sto grazzando il culo e sto facendo questa aspettanti dove sono i barili ah frisca ancora sono lì non lo so la vostra velocità quanti nodi stiamo andando pare che io sono un esperto marinaio non c'è neanche le scarpe ma che io ho fatto l'industriale mica non c'è neanche le scarpe quindi non mi rifaccio i nodi vabbè mi ha dato una barbabietola così ah frisca il cibo per gatti ma vedi qua cosa serve per il retino aspetta un attimo il chiodo il chiodo il chiodo serve il chiodo il chiodo ma io non ce l'ho un chiodo ce l'avevo una vecchia partita chiodo scacciacchiodo cosa posso fare così stanno mozzicando dove 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 la frega di maham la frega di maham vão riparare ma è cusap a marim ho riparato andiamo qua se posso fare il grill più grande cosa serve il dritti gallo gabbiano no gabbiano 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 a quanto è in fase un gabbianino di merda al sito lo mette gli più enfasi possa fare quello complesso c'è il vetro è però servirà un vetro se gli metto un vedo serviva un altro vetro buca poi ha preso il duro duratore due duello anche sto morendo di sete ho preso il durello bello bello maratona 12 ore ma no e se vuoi ma no tieni che ti metto un po di un pesce a cuocere cazzo già il pesce l'ho appena rubato era mio e che cazzo c'è un barile di qua a sinistra eisenberg tutto nudo io la prendo io con la destra non so se lo prendo proprio noi la musica che mi sto suicidando tra voi è bella è bella la devi farmi controllare cacchio vedi che si è sfasciato vedi mi serve un lingotto di metallo con una vista ma più grosso bravi è semplicemente il grill più grande che non sto trovando qua nei crafting eccolo qua serve un chiodo è il lingotto di per il ferro teoricamente si trova come le rocce ho attaccato alle pareti dell'isola ma perché x men che aveva fatto veramente la devi andare trimone che storia giustamente c'è la loro chiamma caro sicura calcutta qua puttani mamma quello è un barile però dove dove è troppo in gula mamma per portarli e la valora la polo che se ne va all'orizzonte la freni di mando a zocco adesso nel live perché non posso dire che non c'erano ce l'avevo con me io ho capito sembrava quasi sono il live era una domanda sono sposato il live ma gli scuole che rimangono le cose non lo so credo che non li preferiscono ma che bella c'è la piauna che ti metto qua a cuoce raccolgo le patta con il signor papa a posto sai cosa mi servirebbe perché il metallo forse si può fare dagli dei rottami ok ma per fare il cuocitore serve mattone secco e altre cose fare mattone secco che cazzo serve fare il mattone secco scusami un attimo il mattone secco il mattone secco non la faccio fare il mattone secco il mattone secco è secco cosa cos'è? passo di coltivazione grande non mi interessa grazie ancora fissa pala volendo vaso d'erba peccia di pietra nido cosa cos'è? arnia mattone secco qua si fa se non dovete fare mattone secco tazza d'argilla mattone secco mattone checco grazie la repubblica cieca è veramente orba orco due vada 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 io ti mangio a colazione tu non hai capito cosa si fa a fare il mattone secco? non capisco con l'argilla eh ma ne sa dove devi fare la forma del brichino in che maniera poi per farla seccare devi metterlo a terra quello non me lo faccio no no ho capito ho capito ho capito vada prendendo tu quale? è morto no ma perché non saliva sulla non saliva sul mio cazzo non saliva è di nuovo cazzo io non ce l'ho i chiodi io non ce li ho i chiodi io col cazzo che non me la prendi ti avevo 47 assi io non lo gioco da solo Morello stremo lì la prossima volta quindi abbiamo quasi finito sono giocato il 47 no no l'asse l'asse vieni qua no 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 qui qui vieni prendi ok pietra va bene e poi perché non sono troppo le cose quando muovi? perché dovevano scomparire? in tutti in tutti sono delle palle le perdi per terra da qua ti scompaiono e basta marca troia ci tiro una pietra mamma mia no devo farmi una pagaia ah cazzo mi devo fare una pagaia abbiamo capito vabbiamo a rendere igiena no no che perché? ma lì probabilmente trovavo qualcosa non ho capito fare un'altra mezz'ora di live così non mi piaceva la cosa bella sai? dovevo aspettare semplicemente che arrivassi all'isola io l'isola è davanti a noi ma io perché? va scendo dalla 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 ma sto qua perché ci sei morto come deficiente io sto qua io mangio ma la vita ci recupero dopo un quarto d'ora ma tu non c'è andare ma non c'è andare ma ma che cazzo ma cazzo e se poi stavo saltando e torno sulla zattra quindi è un filo di puttano lo squadro no sei il filo di puttano che ci sia andato un boccolo lo squadro no io ero sulla merda di zattra non cazzo ma non mi caccare il cazzo guarda no no tu tu non caccare il cazzo no tu non mi caccare il cazzo no tu non mi caccare il cazzo no tu non mi caccare il cazzo no no non vuoi l'argomento no non voglio quella non voglio quella ma tira la veloce c'è ancora qua c'è ho fatto 100 colpi di cose 100 colpi di capra la pagaia la pagaia la pagaia perché non me la pagaia la pagaia la pagaia la pagaia creo la pagaia e pagagli tutti fammi di avere le mie assi e per favore non mi riscatta a vetare le waller ti ha dritto però ti ha storto che la sua testa testa c'è un radar ciò guardava li va a dire che c'è un coso però c'è un barile c'è bravo no perché 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 sono caduto vabbè vaffanculo c'è la pagaia queste carte in questa secca qua a sinistra può essere la pagaia ce l'hai tu non è vero non l'ho presa ma per cui non sei buono perché non sei buono scusami ma c'è qua ma con una rapida occhiata non c'è un cazzo eh c'era il mango vieni 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 che stai stanno andando la zattera ma vai ma quale fuori arrivo io solo 9 ne avevo 42 meno male che in questo gioco il mare è inquinato l'unica volta che ringrazi l'uomo per aver inquinato il mare questo gioco è giusto che sia l'altreale tiro le mappine nei denti dove è la forma? ma io la forma non sa che mica la trovo non c'è sicuro che esista la forma io ho detto devi dargli la forma in qualche maniera ho detto esista la forma devi dargli la forma di brick no perché non c'è niente quello di cacciare a terra non c'è niente poi il processo costruttivo non l'ho visto mi sono visto il cacciarlo a terra è meglio dei thermos e d'altro e piglialo però la forma quando lo prendi c'ha quella forma lì la clay in teoria grazie a terra credo percevitore forse è questo basta di coltivazione grande permette di far creare crescere alberi ah guarda lì ancora fissa questo è il tonel della terra tieni sempre nel servitore basta di utilizzare in Italia con degli elettronici fai a leggere lì tutta la descrizione perché l'elettronica non credo che sia guarda quanti barili che non posso cioè due li posso prendere poi di alla sinistra non posso prendere poi è troppo lontano guarda sono cascato al mare guarda me lo capisci che non puoi passare in mezzo alla merda di zattera ma come ma quando c'è un'altra isola lì guarda quello guarda come se ne va guarda come mi beffeggia va 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 mi beffeggia bastardo è andato solo perché è scomparso per sempre che piano rompi palle eppure ci ho messo lo spaventapasse io qui ma non c'è un cazzo ma vai a cacca ma è sto merdo di sete la tazza la tazza vabbè mi craftare la tazza guarda me l'ho trovato il mattone fresco pesca di mammi dai è nel crafting dove non è nel crafting ah guarda te ma fresco ah è sempre fanghiglia serve è la sabbia serve quindi serve una pala bravo no bravo bevi e poi beviti l'acqua salata così non ti invito a un cazzo a bere bravo questo di cazzo ma strozzati da solo guarda e ora te lo meriti di morire faccia di merda ah ma io sto malendo di fame però dopo cucinando un pesce quando è che uno ha sete e tossisce ma che cazzo di razione è rb ver destra poi sono lì gabbiano gabbiano ah santo c'ho c'ho la patata mangiare così tanto per recuperare un po' la patata c'ho pure fame c'ho non è che capito non è che deve non per cazzo poco dai torno ai miei parametri normali rigenerazione nel sangue tra il nuovo Apple Watch no cacchio ho sbagliato il tasto ho ritirato la lenza senza niente ma perché questo sta durando un botto anche pescando un po' meno arriva è quello dai che l'hai toccato t'ho visto preso tutto l'ho visto clavato tieni c'è un pesce se vuoi se stiamo no sto morendo io di fame lo stai tenendo così con due dita e te che schifo te man ce n'è un altro a cuocere però come ho ma il dling 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 come il concerto no non ce l'ho più mi dispiace ti inculli e manco io e mangiato lo mangio saranno gran cazzo i tuoi ma no ho perso un altro salmone ma ma la lignana a mare e ora non c'è più la fm fai fatti un martelletto adesso sta cagliando scusami cazzo di mortacci tua porca puttana aspetta sono fermo sto facendo niente io adesso che vuoi da me arcatroia bastardo scuola o merda a destra a destra a destra a destra a destra ma un ciodo perché l'ho messo a fare l'altra acqua un ciodo come l'ho messo a fare l'altra acqua non l'ho messo a fare l'altra acqua ora l'ho messo a fare l'altra facete che l'ho bevuta per sbaglio ahhh martelletto non l'ho messo a fare scusi ho bovuto quella salata dico eh non l'ho messo a me non l'ho messo a me perché l'ho messo a me sì che ero convinto di averla messa lì invece l'ho bevuta se stai movendo di fame sto preparando un'altra tilapia per te è chiasso intanto piacere l'acqua dell'acqua che serve a me a me i vomiti addosso uomiti e scalza uomiti e scalza non vuole bacini non vuole bacini ma che la metto qua o ieri dai dai tilapia che mi servi a me sì che è bello c'è shift click perché ha rotto rotto vega rotto vega l'ho già rimesso sono bravissimo plastica è bevissimo anche a morire siamo da quella l'isola lì così prendo la sabbia e mi faccio le cose ci siamo andando naturalmente noi secondo te ci arriviamo? naturalmente noi te lo dico quando lo saprò cattro sto morendo di fame di sete fa la 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 l'ho messa l'acqua fresca ah già l'hai fatto tu qui c'è la tilapia che ti ho promesso accoli fin alla cottura ma no ma mangia la cruda che sarà mai e siamo stichiosi oh ma un chiodo fare una merda di letto eh e io l'ho trovato io l'ho trovato no no l'ho trovato nell'altra partita ma in una cassa tilapia metti a tilapia bagnati a pia che si mette poi c'è l'altro va bene sì utilissimo cavo guarda quante assi eh quanti ma io sto pagando verso l'isola eh ti vede te cavi se non è se se lasci così ci arriviamo bello bello eh sì sto prendendo questo bari e questo bari vabbè io ho tirato l'amo non serviva questo gioco ti piace bello spesi bene questi o quanti 14 o qualcosa qua ne avevo 17 ora ne ho ne ho 4 qualche cosa quindi no ne ho 5 qualche cosa quindi 13 noi chiamo e scherziamo ho preso un altro salmone ho 3 salmone e noi scherziamo non li possiamo mangiare no io ho fatto io sono scemo io mi ammazzo poi no ho mangiato quello crudo è troppo grosso è troppo grosso non ci sa nella griglia ma tagliarlo a pezzo tipo è vero che perdi la fragranza del pezzo magari un po' più a destra ci incastriamo in quella secca ah squadro allora sei decoccio sei tornato dove eri andato tutta la vita giù che ci vuole o stanno qua non mi pare il mare è abbastanza calmo no eh no 5 no lo rotto beh forza che lo sto imparando l'ho rotto aspetta un attimo non so dov'è oh faccio seguendo faccio ok fammi ragionare un po' intanto prendo tutte queste rose ho 18 assi per ripararlo mentre cercavi di creare la cosa sopra questa roccia e dai non fare la migliora ma le mani non sono liberate perfetto botto di asio di palma ok l'anguria noi vogliamo parlare dell'anguria ancora raccogli 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 e qua dove sono io che c'è l'anguria aspetta che metta cuoce una patata questo qua attenzione c'è un sforzo un saltino da fare qua questa cosa qua dovrebbe essere ecco ci hai maniato l'anguria è per vivo ci hai già disgraziato le mani con giovane ho troppato il mango ho troppato un altro mango ho troppato un altro mango ancora ho troppato i manghi salti 10 minuti facciamo due ore poi basta troppo le pressi i manghi no ti ho detto ho troppato i manghi bisogna di tropparli non ho tutto non sto morendo di fame ma io non so non posso prenderli sono i manghi verso dove le troppate è verso dove erano dove cazzo è che sui dove erano arrivo aspetta un attimo fammi creare una cosa li prendo direttamente io adesso però questi 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 queste cose no e queste cose si queste cose si queste cose si si allora verso qui ah qui ma questo è il fiore giallo scusami un attimo e poi è giallo sempre basta non ci arriva quel barile e con i manchi era auguria è un anguria adesso di qui il mango si è droppato e ci metà parata la vuoi l'anguria quanta barra chai semplici semplici metà più di metà o meno di mezza è praticamente meno di metà ok ma io stavo se mi recupera un campo di fame vado a mangiarmi la patata che c'ho vabbè non ci sono i manchi non c'è un mango a farli aspetta però devo prendermi la sabbia bisogna andare in esposizione subacquea ma ciò corre rotta è arrivato non essere fottuta una fine questa è una conchia gigante che non so che serve atti ci metto le altre due assi una patata ovviamente pronta come ti permetti ma come ti permetti ma come ti permetti vignor shark hunter l'ho ucciso prendo la carne prendo la carne prendo la carne quattro carne di squalo se magna mi servebbe la sabbia una volta mi serve la sabbia non c'è sabbia ok mi serve la clay sabbia no mi sei rotto il cazzo se non ce l'hai al volo su cosa non so dove dai che sono arrivato è lì dai se rimasta è l'ape ho trovato anche le cose aspetta che forse ho trovato cose ho trovato il rame è buono perché lo che serve in realtà è buono non deve essere gilla perfetto quanti cazzo ti pensavo parlai con un po' di anime faccio due ragazzi con tempo da me sta parlando mia mamma anche sopra mia sorella questa patata la mangio che qualche te dico guarda mi sei sei con me è stata un attimo prendo altre cose che qui me lo spazzolo tutto metallico metallico trozo al metallo e sarà bello roccheggiante no 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 ci stiamo scastrando no 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 torno indietro torna no no che devo fare altrimenti ci si è scastata la da sola la zatta la mano fa andando via mi metto qua dentro cazzo vuoi adesso no no vabbè poi andartene ormai ho preso di materiale metallico e se siano più di questi più tanti di questi brick perché quasi non è profilamente posso prendere da per questo e come si prende come si tratta eccolo qui serviva un altro chiodo sto cazzo di chiodo non cazzo degli amm ma non appena ovvio ma lo inizioni ecco c'è un altro no 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 via ho mangiato una patata cosa che ho fatto che ho trovato tratta le patte delle cozzole tratta le cozzole delle patate una cozzola significa una cozzola tratta una cozzola appunto ho delle patate ho tratta la vongola anzi è una vongola gigante una grande vongola non so che serve però ho tratta una vongola magari la posso mettere carne mia non la tocco ho altre trend dell'inventario però questo è mia canna di squalo pregiata pregiata eh io vengo dalla sardinia ah sto morendo di fame da che metto a cuocere il merluzzo ci metto a cuocere l'altra carne di squalo no il merluzzo il merluzzo è buono manca la carne di più una trippa quanto ci sta però questa carne a cuocere ma lo so che ti dico nel frattempo mi sgranocchio un ananas ok e un altro potete cozz che sta un po' a posto ora ma tu ci sta veramente a cuocersi sta veramente una vita oh no deve darmi un botto di vita deve darmi metà barra sta mettendo il merluzzo stiamo muovendo no il barile vabbè sono quasi siamo a due ore salva il mondo e quando mi metto questo ti faccio la sorpresona ma che sono bella eh c'è un altro squalo devo fare anche io una spear sai quindi possiamo scordi me voglio fare una spear ma la prima di andare a fare tutto salva il mondo poi d'accordo 1, 2, 3 poi sai mai che mi spedisca non la fire sai mai però l'hanno rimessa l'hanno rimesso a scontata in realtà potremmo dare l'ordine e comprare la scontata ci arriva prima quando me hanno finito gli ordini e quella ci è arrivato a 30 anni però non pareremo il primo non è per arrivare il primo esco salva il mondo salva il mondo mondo salvato non è per arrivare prima è per pagarla di meno perché è una pagata a 30 di ricordare a 19 ma cazzo no io l'ho comprato a 20 non so ti avevo detto che era finita l'offerta quando lo comportai parile mattone secco mattone secco risalva poi risalva lo vado a mettere qui ricerca mi manca pochissimo per sbloccare la pentola mi serve l'ingotto ma teoricamente se faccio cioè se non l'ordine i soldi me li danno si ma se lo faccio per davvero che dici ma te puoi far casca ti pare lo dici però l'ordine allora la cosa arriva dopo tre giorni oh cazzo prisione merda cos'è questo non so se lasciarela lasciarla fatta a 30 euro no no c'è butta la via ma questa lanza non so sono che potrei avere 10 euro nella carta poi è pronta questo non è pronta ma ma che io sto guardando di fame aspettando che si cuoce non era pronto perché non ci avevano messo l'asse un porca troia ma io mi offendo cosa hai buttato cosa hai buttato va bene scuola 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 metti l'acqua mi raccomando metto sempre ma ho trovato più di una volta vuoto io non vorrei accusare nessuno ma se dove è qualcuno qui non me la racconta tutta tua sorella più di una volta più di una volta si si no è vero più di una volta ho trovato senza senza niente salvo il mondo e usciamo mondo salvato pusha raft